macro categoria studi e boutique legali e professionali categoria diritto penale il premio è quello di avvocato dell'anno boutique di eccellenza diritto penale consulenza e andiamo a leggere insieme la motivazione per il prestigioso percorso di crescita professionale testimonianza di doti umane e professionali di assoluta eccellenza attraverso una continua e altamente qualificata attività di studio e formazione da avvocato di prima generazione a 43 anni e dopo 15 anni di professione è giunto a ricoprire ruoli di grande rilievo anche in ambito nazionale è titolare founder dello studio legale di cui tra poco parleremo che opera in diversi settori del diritto assistendo sia soggetti privati che pubblici il premio va a domenico russo studio legale domenico russo ed è collegato con noi l'avvocato domenico russo founder e titolare dello studio legale domenico russo avvocato ben trovato naturalmente complimenti grazie saluto lei e tutti coloro che ci stanno seguendo per me costituisce un grande onore un profondo orgoglio ricevere questo benissimo riconoscimento essere selezionato per partecipare ai fonti awards già era stato per me motivo di emozione risultare poi vincitore in una categoria tanto prestigiosa ed ambita in uno scenario di caratura nazionale o meglio internazionale non può che donare una di quelle soddisfazioni che mai si dimenticheranno nella vita quindi grazie ancora grazie a coloro che hanno operato la selezione che hanno avuto la volontà di indicarmi quale vincitore certo infatti la prima domanda è sempre questa insomma un commento a caldo poi credo sia ancora più importante nel in questo periodo no è un periodo complicato che tutti abbiamo vissuto avere un riconoscimento di questo di questo genere certamente questo riconoscimento arriva una fase importante della mia vita nella quale sto raccogliendo diverse soddisfazioni professionale e umane dopo un periodo complesso per tutti mi rende felice perché unitamente ad altre soddisfazioni mi conferma che evidentemente tutti i sacrifici la passione la dedizione che ho cercato di mettere in pratica ogni giorno gli ultimi vent'anni della mia vita sono serviti e quando parlo di sacrifici di dedizione non menziono categorie astratte ma fatti insomma ben concreti ben impressi nella mia mente lei ha anche fatto cento insomma percorso di studi alla formazione ed è verissimo non ho mai smesso di formarmi e svolgere più di un master ne ho conseguito tre attualmente sono in procinto di portare a termine un mio vecchio desiderio che è quello di conseguire una seconda laurea magistrale economia aziendale a fine di acquisire insomma un patrimonio di conoscenze che coniugato all'attuale matrice giuridica possa poi permettermi mettermi in condizioni di ambire anche all'eccellenza nel settore del diritto penale dell'economia nonché di consentirmi di svolgere sempre meglio ruoli relativi diversi ambiti degli organismi di vigilanza e dei consigli di amministrazione ecco fare tutto questo mentre si lavora siamo una famiglia non è semplice seguire anche altri ulteriori corsi di formazione in diverse città investire risorse economiche in continuazione nella formazione nella crescita personale nello studio illegale di cui sono titolare sottraendo l'altro è una scelta che si opera spesso senza alcuna certezza futura e guardare avanti nel dubbio non cambiare strada ma continuare perseverare in quella unica strada che ti sembra giusta non è semplice soprattutto quando diciamo tanti intorno a te magari fanno altro vivendo come una diversa seppure assolutamente legittima leggerezza e quindi oggi sentirsi dire da una fonte tanto autorevole come la vostra che hai fatto bene fa piacere rende felici lei e la giuria che ha operato la selezione si è stata insomma diciamo cortesi da menzionare valutare alcune delle mie attività libera professione quali ti vorrei di studio legale abbiamo sentito tante cose esatto nella motivazione sono state messe in luce proprio tanti tanti aspetti adesso ci torniamo io aggiungo anche questo se pensa questo premio a chi pensa c'è banalmente non so c'è qualcuno a cui si sente di dedicarlo allora a chi penso penso sicuramente mia mamma mia cara mamma che purtroppo non c'è più che è stata la persona più importante della mia vita è stata determinante per la mia educazione per la base solida su cui poi è stato costruito il resto il suo posto adesso è stato preso da mia moglie siamo sposati da ottenere 15 anni che sarà sempre al mio cancro e tuttora sempre creduto in me insomma donna meravigliosa con la mia stessa matrice valoreale educativa che con gira di ruolo di docente con quello di moglie e mamma di tre tre miei amate figlie insomma i primi due prossimo anno frequenteranno già il liceo classico anche a loro il mio pensiero a gratitudine per i risultati che stanno perseguendo nei loro pensieri scolastici poi chiaramente penso a tutti penso a mio padre i parenti cari amici e le persone ecco le persone collaboratori di oggi di ieri e le persone che hanno sempre riposto che hanno riposto fiducia fiducia in me ecco io mai dimenticherò di chi ha riposto la propria fiducia in me per cose più importanti e per cose meno importanti per quelle persone ci sarò oggi e sempre certo certo beh è tutta è una storia proprio di passione no le storie che noi raccontiamo attraverso di voi nei nostri le fonti awards le chiedo un'ultima cosa ovviamente avvocato proprio partire da quello che già è stato messo in evidenza nella motivazione che sottolinea quello che è stato fatto in tutti questi anni in questo percorso prestigioso di crescita come abbiamo selezionato come abbiamo scritto come è stato evidenziato dalla nostra giuria il futuro che cosa prevede insomma come guardare al futuro adesso di continuare diciamo lei la giuria dicevo che ha parlato la sezione si è stati così cortesi da menzionare alcune delle mie attività quindi oltre alla libera professione docenza universitaria pubblicazioni ruolo nelle camere penali commissione osservatorie organismi in giranza consigli e amministrazione allora queste cose questi ruoli chiaramente non si improvvisano non ti piacciono in testa quindi devi volerli questi obiettivi devi fare qualcosa o più di qualcosa per conquistarli e per meritarli ogni giorno quindi e non esistono sicuramente emozioni magiche quindi quello che conta è più del talento insomma è l'attitudine al massimo impegno alla serietà in tutto quello che si fa bisogna agire bene se con una scala di riconosciuta di valori bisogna dedicare tante ore della propria giornata ai compiti che si hanno non esistono impegni di categoria superiore impegni di categoria inferiore così come non esistono interlocutori più importanti di altri a tutti il medesimo rispetto a medesima attenzione solo così si può costruire un profilo credibile a credibilità e altra caratteristica di rimente determinante per perseguire gli obiettivi proprio per il futuro continuare a proseguire nell'unico modo che conosco dando il massimo in tutto quello che farò restando aperto a valutare ogni tipo di valida esperienza professionale che si dovesse presentare essere aperto diciamo le sorprese che la nostra esistenza ci riserva cercando di superare al meglio gli ostacoli facendo di tutto per rendere onore ai valori che nella vita più contano offrendo sempre il massimo nella mia attività professionale grazie che belle parole no no ma queste parole insomma sono poi di di monito anche per guardare al futuro con un certo ottimismo peraltro noi continueremo a monitorarla e perciò se venisse riselezionato sarà ancora dei nostri nella prossima edizione delle fonti awards grazie beh è stato un privilegio essere monitorati da una fonte così grazie complimenti all'avvocato domenico russo founder titolare studio legale domenico russo per il premio avvocato dell'anno boutique di eccellenza diritto penale consulenza e a presto grazie arrivederci a tutti grazie 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 grazie